Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code per traffico intenso tra Firenze Nord e Aglio. In A11 code per il traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Spostandoci sulla FIPILI code per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sempre verso Firenze entrata chiusa per lavori a Darsena Toscana Est. Per la viabilità cittadina a Firenze in Viale Belfiore fino a mercoledì resterà chiuso il tratto compreso tra il numero civico 6 barra C e il numero 4 alla fine del controviale. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!